Con il Presidente del Consiglio Comunale di Escoli Piceno, Marco Fioravanti, una battuta su questa inaugurazione, su questa grande giornata in cui si aprono i battenti per questa fiera, questa borsa del turismo, Mula, quindi quattro regioni che insieme fanno un unico territorio per ripartire, ma soprattutto per guardare oltre. Sì, in realtà questo è l'inizio di un percorso lungo e molto ambizioso perché la capacità di mettere insieme quattro regioni, tantissime province, tantissimi comuni, ma soprattutto tanti piccoli produttori privati e soprattutto tanti operatori del turismo che dall'esterno possono osservarci con interesse per poter capitalizzare anche le loro vendite sui nostri territori è una grande opportunità, ma una grande sfida molto difficoltosa. Io ci credo molto perché dopo la fase tremenda del terremoto adesso inizia una fase delle opportunità. Le opportunità sono quelle di trasformare questo territorio in un'industria del turismo, ossia trasformare e trasmettere le esperienze emotive che riesce a vivere dal mare alla montagna, dall'entroterra alle nostre pinacoteche. Credo che abbia un valore immenso e che con la possibilità di farle osservare agli operatori esterni e poterle vendere all'esterno per produrre incoming e far tornare turisti qui è la grande sfida e credo che ci si può riuscire molto bene perché il valore c'è, il capitale c'è e mettere insieme quattro regioni credo che sia la prima volta nella storia e quindi può aprire una fase molto interessante. Da un punto di vista economico e da un punto di vista turistico. Accanto a te Marco Fioravanti c'è? Accanto a me c'è Francesca Pantaloni che è un consigliere comunale di Ascoli. Noi qui questa sera cerchiamo di rappresentare l'amministrazione comunale portando anche i saluti del sindaco Guido Castelli che questa sera non c'è, però è proprio una visione che stiamo condividendo. Non chiudere la promozione del territorio all'interno dei nostri confini perché saremmo deboli, non saremmo competitivi e quindi unirci non solo a San Benedetto ma anche alla montagna, alla bellissima montagna, ai Sibillini e quindi estenderci sempre di più all'interno delle quattro regioni. Noi non possiamo parlare di Ascoli ma dobbiamo parlare del centro Italia, il cuore d'Italia. Il centro Italia ha tantissime cose meravigliose, i cluster della nostra regione Marche sono diversi così come possono essere simili a tutti gli altri cluster delle altre regioni del progetto Mula. Non solo le Marche come dicevamo ma anche Umbria, Lazio e Abruzzo. L'incamingo turistico parte anche da questo, da una macro regione. Sì, è vero, è importantissimo questo discorso di unirsi, di fare squadra e questo dimostra che c'è anche una presa di coscienza dell'importanza di unirsi. Quattro regioni che possono fare squadra valorizzando le loro eccellenze. www.borsamula.it, noi invitiamo caro Fioravanti a seguire il social e anche il web perché di manifestazioni legate a questo grande progetto ce ne sono tante. Allora ricondivideremo i canali social del progetto Mula sui nostri canali social personali e istituzionali per far sì che molte persone possano attraverso il social conoscere anche questo territorio e interagire con noi. Quindi in bocca al lupo, è una grande sfida e quindi grazie a tutti coloro che hanno lavorato, quindi anche a voi che contribuite per la ricchezza e anche a chi ha dietro la camera perché ognuno di noi mette un pezzo di sé per un grande progetto. Quindi tutti insieme potremo far rinascere questo territorio.